Siamo alla ricerca di un riconoscimento sovranazionale della cittadinanza, una fase storica importante di cui le tre giornate dedicate all'Europa si sono occupate con originalità. Ultimo appuntamento con l'ottava edizione, possiamo fare un piccolo bilancio su ciò che è emerso in questi giorni? Certamente, un bilancio estremamente positivo sia per la presenza dei nostri studenti che sono stati sempre numerosi e attenti e questo lo dimostra anche la partecipazione attiva attraverso le domande e la discussione che si è svolta in aula. Ma direi proprio per il fatto che tutti gli interventi dei nostri ospiti sono stati a un alto livello e quindi hanno permesso di guardare a questi problemi del farsi dell'Europa, della sfida che viene appunto dall'idea di dare vita a una cittadinanza nuova. Mentre come afferma Rodotà, nell'inerzia della politica i giudici fanno l'Europa, l'ultimo incontro si è concentrato sul concetto di cittadinanza dei paesi terzi e lo ha fatto con tre relatori di fama internazionale che hanno esposto la loro visione su questi argomenti, facendo politica nel modo giusto. Cittadinanza multilivello, cosa vuol dire? L'idea principale è che in Europa siamo cittadini a livello europeo, a livello statale e anche a livelli sottostatali come la municipalità, la città. La vera cittadinanza è la cittadinanza di residenza. Allora tutti i residenti della città devono essere inchiusi nella città, non solo gli europei, i cittadini europei, ma anche i cittadini dei paesi terzi. Secondo lei in Italia è diverso rispetto agli altri paesi dell'Europa? C'è una percezione differente oppure no? Allora, in Italia, come negli altri paesi dell'Europa, c'è realmente l'idea che l'immigrazione è a questo punto al centro delle discussioni politiche, ma è la stessa cosa negli altri paesi dell'Europa. Penso che questa discussione sui migranti clandestini, sui Roma, è lo stesso in Francia, per esempio. Quali sono le difficoltà, gli ostacoli? Ci sono tantissimi. Il primo ostacolo è che la maggioranza dei persone non sanno che sono cittadini europei, per questo non valgono, infatti, queste cittadinanze, non pensano che possano derivare diritti importanti da questo Stato. Per questo dobbiamo spiegare sempre le importanze dell'Unione Europea. L'impegno del centro Spinelli nel 2011 ha portato ottimi risultati. Approfonditi insieme agli studenti, i cittadini europei, questi temi sono fondamentali perché, come affermava Bino Livi, senza Europa non c'è futuro. Grazie a tutti.